5.000 euro, il bottino della rapida è andata a segno ieri nell'ufficio postale di Bagno, a compierla un uomo di nazionalità marocchina che si è servito di un taxi, guidato da un aquilano, per scappare poi in direzione a Vezzano. È la dinamica dei fatti raccontata dalla Questura. Nella mattinata di ieri, verso mezzogiorno, un uomo di copertura robusta, armato di coltello e dal volto coperto da un passamontagna, entra nell'ufficio postale di Bagno, si fa consegnare la somma presente in cassa in quel momento, circa 5.000 euro, e fugge. Qualcuno nota però che l'uomo, uscendo dall'ufficio postale, correndo, si dirige verso un taxi parcheggiato nelle vicinanze. A bordo di questo si allontana. Immediatamente partono le ricerche. Il personale della squadra mobile inizia l'attività di indagine, sentendo i testimoni e visionando i video delle telecamere presenti nell'ufficio postale, nelle vicinanze. Uno dei video mostra chiaramente l'arrivo in taxi dell'uomo, dal quale scende il marocchino, si dirige verso l'ufficio postale. Durante il tragitto si vede lo stesso indossare uno zuccott, poi coperto dal cappuccio della felpa. L'uomo esce dall'ufficio postale qualche minuto dopo, si dirige verso il taxi e si allontana. Circa un'ora dopo l'accaduto sull'autostrada 25, precisamente nell'area di servizio Montevelino Nord, personale della stradale delle sottosezioni dell'Aquila Ovest e Prato La Peligna, nota due persone scendere da un taxi e dirigersi all'interno del bar. In virtù della segnalazione ricevuta, gli agenti controllano i due uomini, l'autista aquilano ed il passeggero, un cittadino marocchino residente all'Aquila, con precedenti pespacoli stupefacenti. L'autista riferisce alle modalità con cui è stato contattato nella mattinata e il tragitto compiuto con il passeggero. Agli operatori di polizia pare subito chiaro che il passeggero potrebbe essere l'autore della rapina, compiuta alla periferia dell'Aquila. L'uomo viene accompagnato in questura per riaccertamenti e durante le perquisizioni, personali e domiciliari, si rinviene il coltello e numerose banconote di vario taglio. Alla luce del risultato delle perquisizioni, delle dichiarazioni rese dall'autista del taxi e dalle testimonianze acquisite, il cittadino straniero viene tratto in arresto e su disposizione dell'autorità giudiziaria, ristretto presso la casa circondariale dell'Aquila.